Sono Carmelo Dell'Imauri, Presidente della Cooperativa, nata circa 60 anni fa, per volere di 11 agricoltori che hanno sentito l'esigenza di un riscatto sociale ed economico. All'inizio la mission era quella di dare un riscatto economico e sociale agli agricoltori in genere, ora stiamo cercando di differenziarci, stiamo dando dei servizi ai nostri soci, che sono quelli del nostro agronomo che li accompagna dalla produzione fino alla raccolta delle olive. Cerchiamo comunque di avere sempre una produzione quanto più perfetta possibile, perché solamente da olive perfettamente sane può nascere un olio di altissima qualità. Noi siamo Cooperativa dei Gasperi, noi siamo Terra dei Messapi.